Domenica 23 aprile con la Liegi Bastonna Liegi si concluderà il periodo delle grandi classiche di primavera. La corsa prenderà il via da Liegi dove inizieranno i 258 km di gara. Nei primi chilometri non ci saranno scese ufficiali, ma il percorso di fatto non concederà mai il respiro e la fuga potrebbe formarsi proprio in una fase di salita. Al chilometro 70 la Côte de la Roche-Nardenne, 2,8 km al 6% dipendenza media, che non dovrebbero fare selezione, data anche la grande distanza dall'arrivo. Dopo un lungo tratto interlocutorio e il giro di Boa-Bastogne, la corsa si farà più impegnativa. La Côte de Saint-Roche sarà posta a 142 km dal traguardo e sarà la seconda asperità di giornata, ancora piuttosto isolata, considerando che le ultime otto salite saranno tutte nei 90 km finali, a partire dalla Côte de Ponte, cui faranno coda in rapida successione la Côte de Bellevaux e la Côte de la Ferme-Libert. Tutte lunghe, circa un chilometro, la prima e la terza hanno una pendenza media superiore al 10%. A 60 km dall'arrivo sarà il turno del Col du Rosier, oltre 4 km di ascesa pur senza pendenze eccessive. Discorso simile per il Col du Machisard, a 47 km dall'arrivo, che misurerà un paio di chilometri. La Côte de la Redoute, a 36 dall'arrivo, potrebbe rappresentare il primo vero trampolino di lancio, 2 km al 9%, in cima ai quali potrebbero rimanere solo gli uomini più in condizione. A meno di 20 km dall'arrivo, gli atleti affronteranno la Côte de la Roche-Faucon, con strada all'11% di pendenza media su una distanza di 1.300 metri. Nel finale, la Côte de San Nicolà, la salita degli italiani, 1,2 km all'8,6%, da fare tutti in apnea. Lo scollinamento sarà a soli 4,5 km dal traguardo. L'ultimo chilometro verso Hans tornerà a salire, a 200 metri dalla linea, l'ultima curva, secca, sulla sinistra. Nel 2016, la decana di tutte le corse, che spegnerà nel 2017 la centotresima candelina, fu vinta dall'olandese Watt Poels, sullo svizzero Michael Albasini e il portoghese Rui Alberto Faria da Costa. Ultimo successo italiano dieci anni fa con Danilo Di Luca. Nel nuovo millennio, a segno per noi, anche Paolo Bettini, 2000-2002 e Davide Rebellin, 2004.